Voleva la palla dalla parte opposta di Moriero che è smarcato, Sartor prova a raggiungerlo, si coordina Moriero ed è un gol strepitoso! Moriero ancora lui alla Mala di R come ai tempi della Roma, l'Inter in vantaggio ed è un euro-goal davvero. La soddisfazione di Simoni, 25esimo minuto del primo tempo, l'Inter passa in vantaggio.